Nuovi uffici reclutamento per gentile concessione di Onyx Corporation! Nuove avventure ti aspettano! I pochi interessati a partecipare al banchetto annuale della regina si recchino all'apposito sportello, grazie! Ehi, non mancare! Contrata i nuovi incarichi appena arrivati! Attenzione! Chiazza di cera scivolosa presso l'uscita F, da evitare... Attenzione! Una nuova postazione di lavoro Onyx è stata installata nel tuo quartiere! Vai a vedere! Polizia! Polizia! Prezzi delle azioni Onyx in rialzo a fronte dei guadagni record del primo trimestre! Aggiornamento sul traffico! Tutto a posto! Oggi funziona tutto alla perfezione! Come sempre, cari cittadini! Attenzione! Una nuova postazione di lavoro Onyx è stata installata nel tuo quartiere! Vai a vedere! Qui alla Onyx, il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo ha sbaragliato la concorrenza con l'invenzione del Krellner, che ci consente di riciclare tutti gli scatti di condizione che solitamente vanno persi nel processo di rinquinamento. Il Krellner, un altro modo con cui Onyx rende migliore la tua vita! Salve cittadino! Una nuova postazione di lavoro Onyx è stata installata nel tuo quartiere! Qui alla Onyx sappiamo bene cosa il miele rappresenta per New Alvear City! Se hai i requisiti adatti, potresti diventare spillatore di miele e fare del bene alla tua città! Lavora sodo e verrai ricompensato! Ehi, hai un incarico da spillatore in sospeso! Perché non provi a battere il record? Così, così! Ok, questo è un po' più complesso! L'obiettivo è assicurarsi che nessun contenitore di miele resti vuoto! Siamo un po' in ritardo, perciò i contenitori resteranno aperti solo per un attimo! Lasciane passare troppi e non vedrai il tuo denaro! Muovi in su e in giù per spostare lo spillatore lungo la catena di montaggio! Muovi a destra o a sinistra per ruotare lo spillatore! Sei allineato con un contenitore vuoto? Riempilo! Osserva con attenzione il mielometro a tubo nell'angolo inferiore destro dello schermo! Se esaurisci il miele, puoi ricaricarti spostandoti sulla catena di montaggio! Non spillare il miele in un contenitore già pieno! Se è pieno, vuol dire che è pieno! Chiaro? Su, giù, attiva e gira! Versa il miele in quelli vuoti e lascia passare quelli pieni! Sanno già dove andare e non hanno bisogno del tuo intervento! Desideri che ti ripeta le istruzioni? Ok, siamo nei guai! Ehi, cosa succede? La produzione sta calando a picco! Ehi, cosa succede? La produzione sta calando a picco! Ok, siamo nei guai! Ottimo lavoro! Sono appena arrivati dei nuovi incarichi fatti su misura per te! E abbiamo un nuovo gioco nella sala giochi per concessione di Ones! La produzione sta calando a picco! Ok, è l'upert Tombo! Ok, siamo in un settembre! di gru! C'è un lavoro che aspetta solo te! Eccellente! Non te ne pentirai! Continua così! Davvero stellare! Ehi, hai un incarico da gruista in sospeso! Perché non provi a battere il record? Vai, vai! Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai! 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 Bravo! Avanti così! Così! Vai! 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 Pazzesco! Attenzione! L'aiuola è stata invasa da uno sciame di livellule! A tutti i fuchi pichi! Presentarsi all'uscita F per un decollo immediato! Attento! A dove vai? fino a suda bani faremaia, un piede che ormai Onyx si preoccupa per te. Ogni anno gli scienziati della Onyx studiano nuove tecnologie per la lavorazione del miele. Questi miglioramenti rendono il miele un alimento più sicuro. Diventa parte del nostro futuro. Onyx è un marchio registrato di Onyx per l'orecchio. Trovate il nuovo gioco in sala gioco. Attenzione, la nuova è stata in bando da uno sciame di livellule. A tutti i fuchi fichi, presentarci a l'uscita F per un decollo immediato. A tutti i fuchi fichi, presentarci a l'esercizio. Ok! Povera Ape, non ce la fa! Torniamo indietro! Di buonanotte! Ape, prendi questo! Stai andando giù, Ape! Povera Ape, non ce la fa! Sei nostro! Inversione! Vieni da papà livellula! E tu! Di buonanotte! E abbiamo un nuovo gioco nella sala, nella sala giochi, per concessione di Onyx. Ape, non ce la fa! E tu! 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 E tu!